iniziamo con l'introduzione perché così a brucia pelo per capire se più o meno avete idea di cosa parliamo se parliamo di standard qualcuno riesce a farmi un esempio ecco abbiamo subito in paglio il premio 50 ucron per chi riesce a farmi qualche esempio un paio di esempi diciamo di standard e vi dico non c'è da andare tanto lontano che vi basta guardarvi attorno eh sì bravo non avevo pensato sì un paio avevo detto vediamo se me ne tira fuori un altro va bene sì ok ma in quest'aula guardandomi attorno un attimo sì le prese elettriche che se le guardiamo come sono sono quelle italiane quelle tonde non le abbiamo qua eccole e quindi cosa succede succede questo faccio vedere nel succede questo no e noi quando copriamo un elettrodomestico ci cucchiamo anche un euro e 52 euro di adattatore perché perché qualche qualcuno ha deciso che quella lavatrice quel frigorifero invece di uscire con lo standard italiano esce con lo standard tedesco e voi giustamente mi direte perché allora la vendono in italia perché in realtà sono due standard che sono messi tutti e due per gli elettrodomestici secondo criteri tecnici pare che lo standard tedesco sciuco sia via delle garanzie maggiori di sicurezza e di portata sono un tecnico però per certi tipi di elettrodomestici da delle garanzie maggiori questa è la versione ufficiale l'altra versione potrebbe essere che i maggiori produttori di elettrodomestici vengono più o meno tutti dalla germania sono tutti in germania ok e quindi loro decidono il loro standard impongono loro e tu che sei di un altro mondo ti devi adattare come ti adatti con i due euro e 50 in più poi ho portato apposta questo che esce con la presa grossa perché noi abbiamo due sta sotto standard e quindi cosa fai ti prendi anche l'adattatore che adatta un sotto standard a un altro sotto standard cioè la presa diciamo nostra diciamo italiana da grande a piccola e questo è un po questo è il diciamo l'esempio la metafora più più concreta più comune che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi di come gli standard condizionano la nostra vita poi voi direte ma sì ma che sarà mai due euro due euro per la lavatrice due euro per il frigorifero due euro per l'aspirapolvere alla fine avete sempre sti aggeggi e uno si potrebbe chiedere ma allora se tutti gli aggeggi che devo comprare per la casa hanno lo standard tedesco perché l'impianto elettrico non deve essere a sua volta tedesco ve lo siete mai chiesti e perché alla casa vostra come l'avete avete quello italiano avete quello tedesco infatti qua se fate caso ci sono su su questo muro no su dieci prese una tedesca perché la bicocca non ha scelto di farle tutte tedesche perché il problema sennò sarebbe quello inverso che tutte le cose nate italiane dopo devi comprarti l'adattatore al contrario e poi soprattutto costa cioè adattarsi l'impianto elettrico costa molto di più che comprare l'aggeggino da due euro uno dice vabbè me ne compro dieci per i principali elettrodomestici e per il resto mi adatto ok i tedeschi questo problema qua magari ce l'hanno meno e relativamente perché se usano di queste qua da tre e la metto in una tedesca non entra perché qua non c'è il terzo buco c'ha solo due buchi la presa tedesca quindi in realtà il problema va visto da tutte le due le parti però il discorso del cambiare l'impianto elettrico ci fa capire come siamo spesso condizionati nelle nostre scelte cioè non è che possiamo scegliere l'elettrodomestico con la presa che vogliamo sulla base del nostro impianto elettrico perché perché quel produttore lì le fa solo con la presa tedesca e quindi l'unica soluzione che ho è adattarmi io comprando due euro due euro e cinquanta un euro e cinquanta secondo me dove lo prendo di adattatore questo è l'esempio nel mondo fisico siamo in un corso di informatica giuridica e quindi dovremo poi portare questo esempio questa metafora sul piano degli standard informatici e qua ci arriviamo nella seconda parte della lezione prima però vi racconto un po di una storia questa storia delle chiappe del cavallo così capite perché perché ho usato questo titolo e non funziona quindi faremo così ma allora giusto avevo messo una slide per dare la definizione di standard in generale standard queste sono cose tipiche da forse ancora più da filosofia del diritto perché il concetto di modello di tipo e di norma cioè una parola standard è una parola che in realtà viene da estendard quindi dal francese poi diventata inglese e diventata anche una parola di uso italiano però in realtà l'equivalente di standard in italiano sarebbe norma siamo in una facoltà di giurisprudenza non devo spiegarvi cosa voglia dire norma però all'esame di filosofia del diritto c'è tutto un bel a seconda di che tipo di filosofia del diritto fate però la filosofia del diritto che ho fatto io che era sul linguaggio normativo del professor Conte c'era tutta una bella parte ok però norma ha in sé il concetto di normale anzi in realtà normale ha in sé il concetto di norma infatti cosa vuol dire avere uno standard vuol dire uniformarsi a quello che per tutti è normale quindi una norma a cui si devono uniformare o a cui sono conformi tutti i prodotti i procedimenti e tutte le attività e le prestazioni di una stessa serie nella produzione industriale che è l'esempio che ho fatto io adesso delle prese può essere anche un'altra definizione un po' più specifica che è questa modello o andiamo assieme all'evidenza no modello campione o tipo di riferimento di un determinato prodotto o anche insieme di norme fissate allo scopo di ottenere l'unificazione delle caratteristiche del prodotto medesimo da chiunque o comunque fabbricato quindi lo standard è il tipo ma si intende standard anche la sua descrizione cioè l'insieme delle norme l'insieme delle regole che bisogna rispettare per fare un prodotto che rispetta quella norma quello standard può essere anche in funzione dell'aggettivo cioè standard inteso come questo è un adattatore standard questa è una presa standard quindi sto usando la parola standard come aggettivo equivale a tipico a normale quindi riferito a ciò che si considera si stabilisce come normale formato standard dimensioni standard procedimenti standard nell'esempio formato questo l'ho preso da Treccane dal dizionario Treccane formato standard è esattamente quella parte della materia di oggi che tratteremo oggi che ci avvicina al mondo informatico e quindi far rientrare questa mia lezione all'interno di un corso di informatica giuridica grazie a tutti grazie a tutti